Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, ma lo sapevate che c'è Gomorra su NaoTV? Comunque non è un placement in realtà, è comparsa la pubblicità Siccome le ultime volte siamo finiti in situazioni spiacevoli nei confronti di altre persone Visto che si chiamano tutti i Favij, sul cacchio di gioco, mi chiamo Favij, quello vero non rompete Vediamo se qualcuno prova in qualche modo a mettermi i bastoni tra le ruote o fingersi me Vai Sofì, fammi vedere come disegni, Orlando, Ronaldo, Mandarino, Mela, Apo, Zucca, Mark Zucca, proprio lui Vabbè l'ho indovinata subito, sono stato molto bravo ragazzi, questo gioco sono The Wine Ma come pesca, ma cosa? Ma l'abbia vista la pesca zi Quadrifoglio, ma che bravo, non è vero Trifoglio, ma che bravo Avevo messo un foglio in più Ok, bravi, complimenti ragazzi, era proprio questa veramente complicata Non so come abbiate fatto indovinare, difficile Round 3, come on, peccato che non vinco perché siamo all'ultimo round Almeno posso scalare un po' la classifica e portarmi avanti il più possibile Carte Carta Ah, carta singolare, attenzione Proprio lui Una sola Bellissima il cuori di cuori Mi mancava, perché non mi fai un picche di picche? Ah, carta, però le ho azzeccate tutte per primo, eh, quindi potrei quasi vincere Bossolo, alza bandiera, che non posso disegnarlo Oppure fragola Facciamo fragola, va, tipo Lorenzo È veramente, è complicata da indovinare questa È proprio complicata da indovinare Penso che nessuno possa indovinare Come peperone Sono quarto, nonostante abbiano iniziato la partita sei ore fa No, regà, non ho capito cos'è sto schifo Ah, miele Bravi che l'avete indovinato prima di me Come avete fatto a indovinare miele da sta cagata qua? Questo è un pantalone? No Punto esclamativo Esclamazione Microfono No No Non so scrivere L'avevo indovinato subito Non sono riuscito a scrivere Cosa ho scritto? Microfono micro fresg Maledizione L'avevo indovinato subito Semplicemente avevo messo una I Ho perso questa partita Non me la merito Mannaggia Andiamo alla prossima, dai Questa è un appendia Appendiabiti Come on È facilissimo Tanto ho indovinato io che non ero in partita ancora O è un appendia abiti O è un uccello con un collo veramente storto Quanto deve durare sto round? Basta Che cacchio vuoi che sia? È il tuo momento Filippa Margherita Margherita No Casello No Comunque i cubi grigi sono sempre la partenza Borsone La cartella Eeeh Meno male Mica perché stavi scrivendo cartella L'ho indovinata Non potevi disegnare una cartella Tipo quella che ti metti semplicemente nelle spalle Perché poi secondo me in base alle regioni cambia sta roba Per me ragazzi lo zaino è anche la cartella Questo per me è una cartella Cioè non so voi È la cartella Spotify Come Spotify? Ma com'è possibile? Allora aspetta che non mi ricordo Spotify Ok Allora devo farlo giallo No devo farlo verde Così guarda Che bel cerchio Dai si vede che Spotify È veramente fatto bene Spotify Devo anche fare il contorno nero Qua è un po' sbordato Eccolo Dai pirla È un'app Ok a posto Sono stati molto bravi E nessuno si sta fingendo me in tutto questo Vai Fanny Fammi vedere se sei veramente divertente O se sei solo divertente di nome Che cacchio è Mike Luigi Ho indovinato prima io Verde con la L Luigi Non può essere nient'altro Che A lui gli è uscito Luigi come parola Madonna Meno meno non ti è uscito Ermenegildo Se no era un casino Ah vestito Con Ah vestito Vestito Proprio lui Lei indovina subito Beh questa è veramente una cazzata Dai zì Facciamo i seri Come on Vai Sofia Perché tutti Sofia si chiamano in sto gioco Tutte Sofia Incredibile Adesso mi chiamo anche io Sofia Vai Sofia Pomodoro No Peperone Spiderman Ma come Cioè ho azzeccato la Spiderman Ma cosa Cioè io ho azzeccato Spiderman Da questo Ma poi scusa Ma perché sei partita a facegli uno stickman Fai una ragnatela Non lo so Uno che spara una ragnatela Non devi farlo rosso per forza Uno che spara una ragnatela Però vabbè fa niente Che cacchio è Una tomba Cos'è sta roba È un Ah è un sandalo Sandali Non l'ho indovinato Brava Filippa che ho indovinato Brava Filippa Porco demonio Era difficilissimo Cioè questo è un piede ragazzi Questa non è una zampa Storpia di un dinosauro È un piede Favij sei quello vero Certo Chi dovrebbe Cioè si è scritto Favij quello vero Non rompete Sarò quello vero Per forza Filippa Ma cosa mi chiedi a fare Vai Filippa Come on Pillola Pillolo Tic tac C'è il mio cane che abbaia Non so se lo sentite Che mi sta suggerendo la parola Eeeh Ah no c'è Nocciolina Pokéball Ma che cacchio è Ah bo No Bamba Ma cos'è Cartella Maledizione Dai Ma quello non era uno zaino Era bruttissimo Boomerang Chi non mi indovina Boomerang L'ammazzo Vi giuro guarda Vengo lì Filippa vengo lì Ecco Magari c'hanno anche ragione Se lo faccio così da cani Allora non so come farlo Dai ragazzi Ci hai fatto da dio Ve lo dovevo solo mandare a casa con Amazon C'è porco demonio E' un boomerang Cripio Ma cosa doveva essere Boomerang Quello boomerang Questi non sanno scrivere Questi Cosa hanno scritto No fermi 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 Devo leggere Boomerang Goomerang Bomerang con una O Gamer gang Dark polo gang Boomerang Bomerang Bomeranga Favij non ci credo che sei tu E tu non sei una piazza Pippa Giraffa con tre teste Cerbero Tutto qui Pico demonio Basta Mi sto alterando per un gioco per bambini Devo rivedere le mie priorità nella vita Pantalone No sigaretta No cos'è Accendi Spada laser Spada Coltello Ora che sto riprendendo Fanny Secondo me adesso l'ho ripreso Non vorrei dire una cagata Siamo al round 3 di 3 Mi sono rifatto tutta la classifica E forse ho ripreso Fanny Forse non è detto Si pipa Sto reccando Ma qua è bugiardo Ma Assort Brava Esatto Vedi Ecco brava A posto Ragazzi Datemi più credito Basta Mattone Mattone Mattonella E un Sono secondo per un niente Ragazzi Devo assolutamente farla giusta Che cacchio è Sportecolo Era svenuto sulla tastiera Adesso è rinvenuto E sta cancellando No non ho idea di cosa sia Non ho idea di cosa sia ragazzi No l'ha indovinato Fanny La parola di prima doveva essere Io l'avevo scritto prima Quando c'era coltello Invece era adesso sigaretta Ma come? Vabbè ragazzi Niente Sono una pippa Spero che il video vi sia piaciuto Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al tasto mi piace E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Come sempre Bella ragazzi Ciao